Bentornati carissimi abbonati a questo canale Voi che donate 150 euro al mese a testa Avete accesso a questi contenuti Se non siete consapevoli del fatto che donate 150 euro a testa Che domani parto per i Caraibi con i vostri soldi Beh affari vostri In realtà scherzo Non c'ho un soldo io Questo è Electric Oggi facciamo tre anime Un disegno Tre anime Un disegno E ora lanciamo la sigla Vai Oggi miei carissimi polli A seguito di un consiglio sui commenti di Youtube Mi è venuta l'illuminazione Ho detto oggi facciamo una donna Nella serie tre anime Un disegno E quindi ecco qua i riferimenti Penso che sappiate di chi si tratta Guardate questa spada che costa 3,99 euro O non so quanto sia Penso siano yen Ma ho detto la prendo per sicurezza Anzi mai che la devo disegnare Non lo so E la nostra cara Nami Perché oggi tre anime un disegno E volevo fare una femmina Volevo fare una donna Signore Il suggerimento arriva da Albe2045 Ciao Albe2045 Ti ringrazio il suggerimento Che mi ha aperto la mente E mi ha ispirato Perché oggi non dovevo disegnare Tre anime un disegno Assolutamente Ma siccome il suggerimento Mi è piaciuto O più che mi è piaciuto Mi ha ispirato Anche se sono un po' stufo Di disegnare Attack on Titan Ma il resto non è male Ho detto sai che oggi faccio tre anime un disegno Quindi grazie Albe Ne approfitto per fare gli auguri A Kisuke Bonboy Il nostro caro Kisuke Moderatore di questo canale Che oggi compie gli anni Non ne ho idea quanti Per me quell'uomo è un mistero Infatti adesso un po' ci riferiremo A lui come il signor Essere mistero Auguri Kisuke Bonboy Essere mistero Ma adesso io direi Bando alle cianciole Bando i cinghiali Alle cose Perché qui Ci sono parecchie cose a mischiare Non so se ve ne rendete conto Ma abbiamo Mikasa Che è la solita Ha il solito abbiamento eccessivo Che ci tocca disegnare le cose Attack on Titan Che palle Però c'è da mischiare Uno stile molto particolare Che è quello di One Piece In cui Nami Ha l'addome Come se fosse stato stretto Da una pressa Meccanica E quindi è tutto È tutto costole E bacino Lei Oltre che Bubis Non ne parliamo Delle Bubis Assolutamente Quindi Non ho idea di dove Di dove O da dove iniziare Qui inizierò col disegnare Un corpo femminile Aggiungendo Come prima cosa La testa Che come siamo rimasti d'accordo Dall'ultimo tre anime Un disegno Gli esseri umani Hanno una testa E penso che ormai Voi lo sappiate E se non lo sapete Beh Signori miei Avete dei problemi A parte Mikasa Che è un po' più tostarella Qui abbiamo tutte femmine Con il corpo Abbastanza gracilino E sottile Suave Suavemente Suavemente Oh yeah Io direi che possiamo Esagerare un po' Con i lineamenti Per richiamare un po' Lo stile di One Piece Appunto Di Nami Quindi se qui abbiamo L'addome Qui abbiamo dei fianchi assurdi Esagerati Qua si vedono Le linee Che portano al pube O come piace a me Chiamarla Il tunnel dei tamponi Dal quale Tunnel dei tamponi Partono ovviamente Le gambe Gambe molto lunghe Perché puntiamo un po' Allo stile di One Piece Suavemente Eheh Suavemente Oh yeah Vorrei che tenesse Due armi differenti Su ogni mano Siccome abbiamo disegnato Tante volte Le armi di Attack on Titan Vi spoilero subito Che non le userò Tutte e tre le nostre donne Beh a parte Mikasa Quindi due delle nostre donne Hanno delle boobies Decenti Ok Lei Qui sono Boobies Boobies Decenti Io direi che qui siamo Intorno alla quarta Una terza abbondante Mettiamoci una quarta La scriviamo così Una bella quarta Invece Nami Ha delle boobies Serie Cioè c'è la serie Ok Io direi che questa Una quinta la è Perché guardate che bocce La nostra cara Mikasa Qui Ha La domanda è Alle boobies Alle boobies La nostra mikasa Cliccate questa casella Per sì Forse Una Prima Abbondante direi Cliccate questa casella Se no Ma Na Palpatella Gliela darei Capito Alle boobies Sì Forse una prima No Ma una palpatella Gliela darei E cliccate like Se sì Ce l'ha Cliccate Lasciate un commento Se no Ma una palpatella Gliela darei Gliela darei Lasciate comunque sia Like e commento Per questo studio Delle boobies Grazie Io dico che per una volta Io posso puntare a fare Delle boobies Abbastanza serie No Che dite Perché se no Qui nessuno mette like Se non ci sono le boobies Serie Capito Quindi oggi puntiamo Alle boobies serie Come potete vedere Qui lavoriamo un po' Sulle spalline Stiamo ancora lavorando Sull'anatomia del corpo Qui eh Come potete vedere Non è che stiamo perdendo tempo Lavorare sulle boobies Non è mai perdere tempo Anzi Io direi che questa volta Mi è stato fatto notare Da un commento Non mischio troppo le carte in tavola Quando si tratta di tre anime Un disegno No Invece sarebbe il caso Che mischio un po' di più le cose Come l'abbigamento stesso Quindi adesso parto Con l'abbigamento di Asuna Sta zozzona qua Che ha questo abbigamento Assai fancy Come si direbbe in inglese Sgargiante E forse non adatto A una vita normale Non è che puoi indossare Sta roba Nella vita quotidiana Non è che ci puoi andare al lavoro Se fai la cameriera Beh a meno che Non fai la escort Io ti pagherei Se fossi vestita così Eh O a meno che non fai La cosplayer Di professione Che anche lì Dici ok Ho una scusa Per vestirmi Come una deficiente Che se no Io non penso che tu puoi andare a scuola Così Hai capito Asuna Eh Capisci in cazzo proprio E poi qui mischiamo un po' le carte in tavola Mischiamo un po' le carte in tavola Qui lavoriamo di bichini Signore Bichini alla Nami Hai capito? Lavoriamo un pochino di bichini alla Nami Qui Che addirittura queste strisce Il bichini alla Nami E sopra tutto questo Soprattutto sto sgargiante Macello Di cose Ci mettiamo un bel giacchettino Adatta con Titan Di Mikasa No? Perché Mikasa E stu casa In quanti di voi già avete fatto questa battuta? Cliccate like Se l'avete già fatta Io non capisco perché fanno sti giacchettini Da Attack on Titan Che sono la metà del busto Che ti copre Dal freddo No? E se senti freddo Tutta sta parte qua sotto Rimane scoperta Porca zozza Ma ci stanno con la testa Sti designer Ma io dico Sti designer giapponesi Sti designer dei mondi apocalittici Fanno sti giacchettini freddi Prendi freddo Prendi Una botta d'aria No? Come dice nonna E te pia Te pia un male Te pia Una polmonite E ci secchiamo subito Mikasa E non va bene Perché Magari i giganti Non la seccano Mikasa Ma una polmonite Sì Quella Mikasa Può essere tosta Quanto te pare Ma se là non c'ha Gli antibiotici per trattare Una polmonite Mikasa Se ne va a casa Appunto Bella questa battuta Peo Mettete likes Peo Ho fatto una bella battuta La nostra cara Nami Ha la bussola Di cui ora mi sfugge il nome Perché parecchio che non guardo One Piece Qua sopra Ok? Quindi gli mettiamo questa qui Quindi non mi giudicate se adesso non mi viene il nome Eeeh Che voi siete un po' crudelli E già all'ultimo tre anime Un disegno Ho fatto una cappella Ho detto All for one Non one for all E porca zozza Mi avete crocifisso Ma io non lo so Anche Kisuke mi ha crocifisso Io che ti faccio pure gli auguri in video Ma io dico Kisuke Ma ci stai con la testa Non si può fare eh Questa la chiami amicizia E proprio qua la nostra cara Namisuna A casa Ci avrà il nostro bel bastone Quello classico di Nami Quello classico Quello della nuova Del nuovo arco della storia Dopo i due anni erano Di allenamento Sto ceppo Da quest'altra mano invece Ci andiamo a mettere la spada di Asuna Che non a caso Qui Capisci? Cioè l'ho messa qui apposta Perché dico almeno La faccio che un pochino Se somiglia Ok? Un pochino Ha questo cerchio Questa forma cilindrica Ambigua qui Che è chiaramente Un messaggio subliminuale Subliminuale Da parte di Asuna Che dice A me mi piacciono I cerchi e i buchi Non i peni Ok? Quindi Kirito Stami alla larga Che a me piace Le cose lesbo Hai capito? Kirito Stai zitto Non capisci un cazzo Kirito eh Più o meno ci siamo Dai E' buona Accettabile Qui ora dobbiamo decidere Come proseguire Perché qui Di avviamenti ambigui Ce ne sono Ok? Possiamo mettere I affari a Attack on Titan Che odio Disegnare Che tengono le lame E proprio perché odio Disegnarli Non voglio Disegnarli Ma sai Ci starebbero bene Fammi vedere Come ci starebbero Se attacco appunto Due ciaffi qui Se ce ne fosse uno qua E uno qua Quanto impiccerebbero Sul mio disegno Un bel po' Però devo ammettere Che male Non ci stanno Quindi mi sa Che mi tocca farli Porca di quella Azzuzza Porca di quella Azzuzza Quando devo fare Ste cose Oh Porca di quella Quindi qui come proseguiamo Attenzione Io direi che qui Intanto Parte una bella cinta Ne facciamo una normale Che richiama un po' Quella di Mikasa E Stukasa Sopra di questa Ci possiamo fare Quella di Nami Non riesco a capire Cosa ci sia Lì al centro Ah E' il simbolo dei Barry I soldi di One Piece Perché a Nami Piace i soldi Lei diventerebbe Anche una mignotta Per i soldi Non dite che non è vero Perché lo farebbe E qui prosegue La sua cinta di Nami Con questi affaretti Qui strambi E qui un po' strana Perché si allarga Sta cinta Si allarga Per qualche raro motivo E ha questi dischi I dischi Sono dei mini cd Che lei mette Nel Walkman Nel lettore cd Portatile E questi Allora Questi sono in metallica Questi qua Questi sono I a si Di A si Di Di si Ok Che è un gruppo Che conosce solo lei E qui C'è senza pagare Il singolo C'è il singolo senza pagare Perché essendo da un sacco di tempo Sulla testa Delle classifiche di spotify Si è fatta Inculare Si è fatta fregare Alle classifiche di spotify E ci è cascata anche lei Ah mia cara Namisuna Casa Eh Potrei stare più attenta E poi qui Qui per cambiare ancora di più le carte E fare un macello Di questo disegno Iniziamo a fare un po' di gonna Signori Un po' di gonna di Asuna Perché mi piace quella gonna Devo dire Questa gonna di Asuna Che ha queste frange Che male non è Devo dire Male non è Adesso andiamo a fare un po' di dettaglio Qui su questo portalame Maledetto Che odio disegnare Se non sbaglio Se non sbaglio Ha quattro buchi Il portalame Quattro buchi De culo Ha quattro buchi De culo Quindi sono divisi Da un blocchetto qua E ci sono appunto Le lame Così Se mi casa Trova un ragazzo E gliela fa lei E gliela fa lei la barba Capisci O se trova una ragazza Gliela fa la ceretta All'inguine Direttamente con la lama Che credetemi E' più eccitante Di quel che sembra Capito Che palle Dovevo disegnare prima Le lame Allora Facciamo che questo buco È vuoto Qua c'è una stupida lama Qua c'è un'altra stupida lama E qua pure Famo un'altra stupida lama Che non c'ho voglia di disegnare Ma sto disegnando Wow Wow Qui passa La nostra banda Fascia di cuoio Che abbraccia L'intero corpo Guardate come mi complico La vita Mamma mia Miseriaccia Te guarda la miseriaccia Guarda la miseriaccia Qui c'è la bombola Del gas Qui c'è la bombola Del gas E adesso Questo pezzo Deve essere attaccato Alle gambe Ok Quindi Facciamo queste belle bande Sempre queste fasce Di cuoio Che tengono attaccato Tutto sto ambaradam Alle gambe Tutto sto macello Che addirittura Sono legate agli stivali Ma Ma Siccome dobbiamo Lavorare un po' con Asuna Qua facciamo una banda Un'altra fascia di cuoio Che fa il giro così Con quella che si separa Che fa il giro così Adesso aggiungiamo Qualcos'altro di Asuna Ok Ok State calmi Perché Asuna C'ha queste croci strane Sul lato della gamba Non lo so Mi piacciono le cose celtiche Non a caso Si compra sempre Il cd Dei furor gallico Un gruppo di Monza Se non sbaglio Andatelo a sentire Molto tosto Il furor gallico E qui penso Possiamo fare sempre Le scarpette carine di Asuna Molto simpatiche Sempre che sembrano Molto cristiane Perché Asuna È una credente Sfegatata Sai una di quelle che dicono Io quest'estate Vado a Medjugorje Medjugorje Come ne minchia si chiama Io quest'estate Sono andato a trovare il papa E mi ha ricevuto È stato bellissimo Ma lei è sempre così Ecco perché Chirito l'ha lasciata Perché Gli ha rotto un porcazzo Quindi Scarpa di Asuna Fatta Ci manca una gamba Piena di dettagli Anche quella Che figata Non vedo l'ora Io non vedevo Effettivamente L'ora Di venire qua A fare Le lame Di quest'altro Lato di cosi Non vedevo Proprio l'ora Di venire qui E disegnare Altri Ciaffi Attack on Titan Altri design Che porcazzo Se mi immagino Il mangaka Ma anche i animatori Ogni volta Disegna sto malloppo De roba E ci credo Che ci mettono Tanto andavanti Ci mettono di più A disegnare tutto Sto macello di roba Che non lo so Non mi è venuto in mente Un paragone adatto Sto popò di roba Ciao mi chiamo Popò di roba Mi vuoi disegnare? No Ti tocca invece Perché ormai Stai a fare il video Ti tocca Ha ha Te inculi Ecco come parla Sto popò di roba A me A questo punto Io direi Che qui per mischiare Ulteriormente Le carte in tavola Facciamo il design Di una nuova arma Avete presente Il bastone di Nami? Beh Al bastone di Nami Ci aggiungiamo Una sorta di manubrio Con un grilletto Perché tutto questo È collegato A un meccanismo Che ho appena inventato Giuro Da lame All'Attack on Titan Avete capito? Che genio che sono Eccola lì Perché mi stavo chiedendo Se ste lame Ce l'ha qui dai fianchi Dove le usa Se da una mano C'ha una spada E dall'altra C'ha un bastone Beh le usa col bastone No? Figo vero? Geniale come soluzione Direi A questo punto Anche la mitica Spada di Asuna La possiamo far Tranquillamente diventare Un'arma Adatta con Titan Facciamo un misto Un ibrido Se proprio dobbiamo Mischiare i personaggi Mischiamo anche le armi Avete capito? Anche se secondo me Questo bastone è troppo lungo E dopo mi interferisce Con l'inquadratura da Instagram Quindi lo devo accorciare Ecco fatto Adesso andiamo a lavorare Sul bel visetto Che Che Siccome Dinami Ha poco Però ha Mi sembra che questa volta Siamo stati belli Equilibrati Con le caratteristiche Di tutti Io direi che Posso andare Abbastanza Con lo stile Dinami Come Per la faccia Ok? Innanzitutto Se stai disegnando Un manga Mi raccomando Mento triangolare Anche se lo so Che umanamente Non è possibile Non so se voi avete Dei parenti Con il mento triangolare Io no Ma in Giappone Probabilmente si Adesso qui arriva La parte un po' complessa Che capelli uso? Perché I capelli Sono quelli Che beccano più commenti E tipo Eh li potevi fare neri Eh li potevi fare bianchi Eh li potevi fare Come quelli di Vegeta E li potevi fare Come quelli di Tokyo Ghoul Perché io amo solo Tokyo Ghoul E alla fine poi andava bene Se disegnavi solo Tokyo Ghoul Piuttosto che mi schiarlo Con Naruto E bla 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 Quindi è Sono una scelta difficile Quindi vado a fare Un paragone Di Mikasa Ha giacchetto Armi E affari Portalame All'Attack on Titan Di Asuna Ha Di per sé Non tantissimo Perché Si ha l'abbigamento Delle gambe Un pochino sopra Sotto il collo La gonna Di Nami Ha sicuramente L'abbigamento Delle tette La cinta Abbastanza la faccia Anche se lì ho cercato Un equilibrio Non proprio Stile One Piece Netto Secondo me Si potrebbe laurare Con i capelli di Asuna E renderli un po' mossi Per richiamare Nami Avete capito? Questa si è complessa Innanzitutto Asuna L'attaccatura è abbastanza alta Non so se si vede Perché copre sempre La fronte spaziosa Con quella frangia Ma in realtà C'è l'abbastanza alta Quindi iniziamo Con fare questi Bei ciuffetti Per fare la frangia E qui iniziano a fare Un po' di giro I capelli Anche da quest'altro lato Fa lo stesso movimento All'incirca Il capello E poi va giù Bello liscio Ok? Io va giù Bello liscio Però Però Noi non lo vogliamo Fare andare giù Proprio liscio Perché ci vogliamo Mettere un po' Di capello Di Nami Quindi ci mettiamo Un po' di Movement Hai capito? Hai capito zio? Non solo movement Ma voglio che i capelli Vadano Da questo lato I capelli Biii Questi suoi capelli E secondo me Qui ci siamo È un bel misto È una bella fusione C'ha dei tratti Un po' di tutti Abbigliamento Un po' di tutti Cazzi un po' di tutti C'è un equilibrio Tra le tette grandi E le tette piccole C'è un equilibrio Nelle armi Un miscuglio Così perfetto Non l'abbiamo mai fatto Ora Come al solito Quanto è che sto registrando? Una miseria 47 minuti Per fare uno schizzo Mamma mia Signori Sto video verrà a lungo Ma spero che vi piaccia Almeno Mi raccomando Like se vi è piaciuto Like anche se non vi è piaciuto Quindi io faccio una pausa Ma per voi passerà Un nanosecondo Tac Ben trovati Beh prima di continuare Con l'inchiostrazione Di questo disegno Devo attaccare Le casse al mio telefono Perché ancora non ho internet in ufficio Quindi è l'unico modo Che ho per sentire Della musica Mentre che Inchiostro O eccetera Siccome il video È già durato tantissimo Adesso accelererò parecchio Grazie a tutti Grazie a tutti Wow Wow Bella Ci ho messo un'altri 50 minuti Per inchiostrare Wow Wow Bella Oh Oh Ok Calma Però senz'altro Potrebbe essere Uno dei migliori Se non il migliore Tre anime Un disegno Che ho fatto fino adesso Non so se voi siete d'accordo Ma guardate che roba Sono soddisfatto Di aver mischiato bene Un sacco di roba Che riguardano i tre personaggi Cioè soddisfattissimo Riesco a vedere robe di Mikasa Attack on Titan Di Asuna Di Nami Questa volta non mi potete Dire Ehi L'hai fatto un po' In modo superficiale Non si vedono bene le cose Ed è sto ceppo Ecco Devo fare un'altra pausa Perché ho perso Cioè ci ho messo 50 minuti Sono tantini Ma per voi sarà un attimo Non si vedono bene le cose Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti